Questa mattina ci troviamo presso la struttura turistica Il Sombrero in compagnia di Sebastiano Irollo che ci parlerà di sicurezza e ambiente il giorno 2 maggio alle ore 18 presso il salotto comunale a Battivaglia si terrà il convegno tematico impresa in un giorno. Sebastiano ci parli un poco di questo convegno? Il convegno è organizzato dalla ASO PMI Salerno con sede a Battivaglia con partner del Sombrero la struttura balneare turistica che è a Battivaglia. Impresi in un giorno il portale nazionale per le attività. Il convegno vuole strutturarsi facilitando le attività negli adempimenti, gli adempimenti in particolar modo quelli delle matrici ambientali e quelli della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il convegno ci sarà il 2 maggio a Battivaglia con il patrocinio del comune presso il salotto comunale con inizio alle ore 18. Ci saranno gli interventi degli assessori di riferimento per quanto riguarda il SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, si parlerà di ambiente e di adempimenti ambientali e in particolar modo ci occuperemo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie a Sebastiano Irollo che vi dà appuntamento giorno 2 maggio presso il salotto comunale alle ore 18. Grazie.